È arrivata la tua prima rete che da tempo cercai di conseguire, questa volta la foto su un fotofinish. Sì, meno male, sono molto contento, ho provato delle emozioni che ne ho mai provato, spero di provarle più spesso perché c'è cosa più bella di segnare la tua città sotto la curva così bella all'ultimo minuto e far vincere la tua squadra. Mi arriva la palla da Vergani, io porto un po' la palla, la metto in mezzo per De Sogus che tira, il portiere ha fatto l'ennesima parata della partita che non so, mamma mia, ha parato di tutto. Mi sono ritrovato la palla lì, ho tirato, ho detto che devo fare gol per forza e come ho visto la palla che entrava, prima cosa non ci credevo. Poi come ho realizzato, ho provato delle emozioni veramente bellissime.